Ciao, sono Rosanna e vi do il benvenuto alla ferramenta Venerotta. Oggi vi presento la cassaforte elettronica personal della mottura, prodotta in Italia e certificata a grado 2, che è il massimo stabilito dalla norma di riferimento, quindi un prodotto di alta sicurezza. Questi modelli in particolare sono da incasso. È possibile scegliere tra diverse misure in base quello che dovete mettere al sicuro. Ad esempio questa è una cassaforte da 230x350 e profonda 20 cm, mentre questa è una cassaforte da 360x460 e profonda 25 cm. Attenzione a tenere in considerazione il vano del muro dove poi andrà incassata. Non sono necessari i collegamenti elettrici perché funziona con 6 batterie stilo. Per aprirla basterà digitare sulla tastiera la combinazione che avete impostato e che conoscerete solo voi. Una volta aperta si accenderà automaticamente una luce led, così potete cercare meglio quello che avete custodito. Invece una luce led gialla sul frontale si accenderà quando sarà necessario sostituire le batterie. Consigliamo di sostituirle comunque una volta all'anno. In caso di pile completamente scariche è possibile appoggiare una pila da 9V in questo modo e digitare la combinazione. In dotazione con tutte le casse forti personal c'è anche un ripiano per riporre in modo ordinato i vostri oggetti. Trovate tutta la serie di cassaforti personal della mottura con le diverse tipologie di apertura, elettronica, chiave meccanica e di diverse dimensioni sul nostro shop online oppure nel nostro punto vendita di Lecco. Vi aspetto!